Mister Pizzulli, una valutazione in quest'ultimo test pre-campionato, poi da domenica prossima si fa sul serio. Ci voleva, sì, ci voleva questo test, lo volevamo fortemente con una squadra di categoria superiore, proprio perché avevamo bisogno di sofferenze, diciamo, di poter anche soffrire, anche per la linea difensiva, per la linea di centrocampo, per tutti i reparti, perché poi quando si soffre, si soffre insieme, si cerca di... Devo dire che i primi 20 minuti abbiamo tenuto noi il palino del gioco, anche con un'aggressione alta, poi dopo abbiamo assistito invece al contrario, con il Taranto, che ci è venuto a prendere alti, lì ci siamo andati un po' in difficoltà, dovevamo evitare la prima pressione, invece il Taranto poi ha fatto gol, ci ha messo lì, ha rischiato anche di raddoppiare, però noi siamo stati bravi a soffrire, devo dire, i ragazzi si sono comportati bene, potevamo fare più palleggi, poi dopo siamo riusciti a evitare questa pressione continua alta del Taranto e piano piano siamo usciti, abbiamo avuto pure la possibilità anche di pareggiare, e poi i cambi, è chiaro, abbiamo anche, come loro, insomma, hanno giocato un po' tutti e sono soddisfatto perché volevamo questo. Martina pronto per affrontare questo esordio rosso fuoco con il Casarano qui al Turzi? Ma sì, noi abbiamo fatto diverse amiche euro, la partita di Coppa con Nardò, che è stata molto positiva, dove solo per un episodio negativo purtroppo abbiamo perso i rigori, però la squadra ha già dimostrato di essere in palla, questa settimana abbiamo caricato molto anche dal punto di vista fisico, eravamo sicuramente meno brillanti, questo sì, però mi è piaciuto l'atteggiamento di squadra, di saper soffrire, sicuramente recupereremo forza e brillantezza per poter già domenica provare a fare un risultato importante.